La Marignanese che non ti aspetti continua a stupire. Se si pensa solo i 12 mesi prima, tornando indietro del tempo con il nuovo allenatore Simone Lilli, oggi sella saldamente sulla propria panchina, nelle prime sette giornate i giallobru collezionarono un solo punto. Oggi dopo due sono in testa la classifica con pieno merito. La Marignanese ci affida tra i palli a un ex Riminico Mazzolini, per lui una presenza in cida titolare sotto la gestione a Cori. Poi in avanti Santorni rappresenta l'estero la fantasia con due stantuffi che volano sulle fasce come carne secca e fabbri, ma il gol della domenica che vale i tre punti a fallo è un certo Donati che batte un castrocaro attrezzato per essere protagonista fin in fondo e con il piede caldo di Domini, il migliore dei suoi. I biancorossi contestano per un dubbio rigore non assegnato e perdono la testa con Battistini, espulso per un fallo a gioco fermo. Prima del fisco d'inizio un minuto di raccoglimento. Il match vede da subito una rimessa laterale dove arriva il più acuto dei padroni di casa con un colpo di testa di Fabri sotto misura e con Ruffilli brava a non farsi sorprendere broccando la sfera in due tempi. Al ventesimo Boschi del castrocaro recrimina per un fallo che secondo l'attaccante sarebbe calcio di rigore, ma il direttore di gara assene il fallo in favore dei padroni di casa. Marignanese ancora avanti, questa volta a calcio piazzato Santoni donna al pallone uno strano effetto che risulta efficace per l'inserimento di Dominici, ma il tentativo di quest'ultimo scheggia la traversa. C'è solo una squadra in campo e la Marignanese di Simone Lilli, Canesecchi apre per Santoni, numero 10 porta a spasso, pallone avversari ma pecca sul più bello. Conclusione da dimenticare. Prova e riprova e la Marignanese passa. Tutto da gustare l'azione che avviene al minuto 28. Parte da Santoni che apre il gioco in direzione Fabri, traversone del centocampista per l'inserimento vincente di testa ad opera di Donati. Ruffilli in questo caso nulla può per l'1-0 meritato dei padroni di casa. Rivediamo il replay del gol che risulterà decisivo. Esultanza la Cristiano Ronaldo per Donati. Il Castro Carlo tuttavia non demorde, anzi all'occasionissima per pervenire subito al pareggio. Filtrante i bergamaschi, Pezzi fa da sponda per il tio da fuori area di Boschi che lambisce il palo alla destra di Azzolini. Da calcio piazzato Domini si rende pericoloso benedendo la porta di Azzolini. Nella ripresa il Castro Caro rimane in dieci uomini per l'espulsione di Battistini. Lei ha di aver colpito un avversario a gioco fermo. I biancorossi però non si perdono d'animo. Boschi, grande discesa la sua, mette al centro per la corrente Stucchi che tra i dire e fare trova di mezzo Azzolini a negarli il pari. Dall'altra parte angolo battuto da Conti, botta al volo di Santoni, Domini salva sulla linea di porta e nel finale lo stesso Domini da calcio piazzato a tentare il colpo sotto. Mazzolini in tuffo si rifugia in corner. Continua il trend positivo per la marignanese, sei punti in due giornate. Miglior inizio non poteva esserci. Complimenti davvero alla band di Simone Lilli. Il Castro Caro gioca bene ma perde la testa soprattutto in virtù dell'espulsione di Battistini. Biancorossi rimandati al prossimo esame.